Vi dico tutto quello che so attorno ad Adrienne Arabiò perché la Juventus sta facendo davvero di tutto per trattenerlo nonostante l'inserimento del Manchester United. Vi dico anche quello che sta ruotando attorno ai portieri della Juventus in chiave mercato e poi occhio ad alcune tracce che seppur all'inizio vanno monitorate perché potrebbero aprire degli altri nuovi scenari. Parliamo insieme. Amici miei bentrovati benvenuti sul mio canale anche oggi vi invito ad iscrivervi a lasciare un like a conclusione di questo video sempre che ne avrete voglia e piacere. Vi invito soprattutto a commentare per dirmi la vostra in particolare su quello che sta ruotando attorno alla situazione di Adrienne Arabiò perché insomma intorno al francese. La Juventus sta davvero concentrando forse la maggior parte delle sue energie in queste ore di mercato, ore calde perché il francese qualche giorno fa ha chiesto ancora qualche giorno di riflessione prima di esprimersi rispetto alla proposta di rinnovo di prolungamento che gli ha messo sul tavolo la Juventus per volontà di Massimiliano Allegri perché vorrebbe che il francese fosse anche nella prossima stagione il riferimento del reparto mediano della sua squadra così come Milik in attacco il polacco lo ha voluto fortemente e per questo motivo il club lo ha riscattato dal Marsiglia così come riferimento della difesa e Danilo che giusto qualche mese fa ha prolungato il suo contratto con la Juventus. Allegri vuole fortemente, Adrienne Arabiò è in contatto diretto con il calciatore, il calciatore che però nelle ultime ore insomma sarebbe diventato un obiettivo del Manchester United. Andiamo un po' a capire cosa è successo, Adrienne Arabiò ha in mano una proposta da parte della Juve che non si allontana molto dall'ingaggio che percepisce attualmente ovvero di 7 milioni l'unico aspetto in più sono dei bonus facilmente raggiungibili che lo porterebbero al tetto massimo di ingaggio del club bianconero, sarebbe praticamente allineato all'ingaggio che percepisce Pogba. In questo modo Adrienne Arabiò avrebbe l'opportunità di dare continuità alla sua esperienza in bianconero che nell'ultima stagione obiettivamente lo ha riavvicinato ai suoi massimi livelli di rendimento. Arabiò nel suo futuro vede la Premier League, crede di avere le caratteristiche giuste per essere un protagonista in quel campionato e oggi resta potenzialmente in ascolto però di proposte di top club inglesi e non di situazioni di seconda fascia che a quel punto lo spingerebbero invece a rimanere alla Juventus. La novità di questa fase è che la Juve continua ad avere la massima fiducia sulla permanenza di Arabiò, crede di avere il calciatore in mano, crede tra qualche giorno la sua risposta possa essere positiva e quindi a quel punto andrebbe a sfruttare l'accordo con il calciatore per un altro anno in squadra. Forse è un contratto che potrebbe anche prevedere tra l'altro l'opzione per un secondo anno alla Juventus. Questo perché evidentemente il sondaggio del Manchester United c'è stato così come c'è anche la volontà o ci sarebbe la volontà da parte del Red Devils di raggiungere l'accordo col giocatore così come con Mamma Veronique che cura gli interessi di Rabiò. Però evidentemente la Juve crede di essere più competitiva con la propria offerta e per questo motivo dalla continassa filtra una grandissima fiducia su questo fronte. Con la permanenza di Rabiò è chiaro che verrebbe meno l'ipotesi Milinkovic-Savic, ipotesi sulla quale la Juve ha ragionato in queste settimane così come ha ragionato su Frattesi e anche su Thomas Partey nel caso in cui evidentemente il francese non avrebbe dato parere positivo sulla permanenza a Torino. E' chiusa? No, non mi risulta e siccome voglio essere onesto con chi mi segue non posso dire che sicuramente Rabiò sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Posso raccontare che in queste ore nonostante l'inserimento di un club importante come il Manchester United che possa in qualche modo far tentennare il calciatore dalla continassa arriva grandissima fiducia sulla possibilità di trattenere Adrien Rabiò proprio come vorrebbe Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri che nella prossima stagione potrebbe ritrovarsi due portieri titolarissimi all'interno della Rosa ovvero Scesni e Perin. Quest'ultimo ha dimostrato di essere molto più che un vice nell'ultima stagione perché tutte le volte che è stato chiamato a dare il suo contributo ha fatto sicuramente delle grandissime prestazioni e ha raggiunto sicuramente ormai una maturità tale da poter essere considerato un top della Rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La Juve in un'ottica di risparmio potrebbe anche vedere di buon grado la cessione di Scesni che ha un contratto fino al 2025 a 6 milioni e mezzo netti. Oggi però Scesni non ha alcuna intenzione di lasciare Torino lo ha più volte fatto presente nelle ultime interviste ha detto non mi vedrete mai con un'altra maglia fino alla scadenza del contratto che ho con la Juventus così come ha ribadito che il suo rapporto con Allegri è solido è un rapporto di amicizia che va anche al di là del rettangolo di gioco ma questo lo sapevamo è l'ultimo botta e risposta dopo le parole dell'estremo difensore nel post gara di Siviglia non ha evidentemente rovinato questo tipo di rapporto e allora Scesni si candida per essere ancora il portiere della Juventus nella prossima stagione questo può mettere in discussione la presenza di Perin in organico beh se la Juve venisse esclusa dalle coppe europee è chiaro che avrebbe meno partite da giocare in calendario e a quel punto la rotazione per i portieri potrebbe essere davvero una rotazione ridotta Perin ha sicuramente mercato ha tanti club che lo apprezzano tanti club che si sono anche mossi nelle ultime settimane l'ultimo sondaggio importante è stato quello del Fenerbace che ha lusingato il portiere lui ha ringraziato ha detto però che al momento ha la testa solo ed esclusivamente sulla Juve questo non vuol dire che bisogna escludere totalmente la possibilità che Perin lasci la Juventus in questa sessione estiva di mercato bisogna però rendersi conto di quella che è la situazione attuale Perin oggi vuole capire quali saranno eventualmente le evoluzioni nella Juventus se la formazione bianconera sarà ancora in Europa nella prossima stagione o se eventualmente il calendario sarà completamente stravolto rispetto alla possibilità di partecipare alla prossima Europa League quindi un Perin che potenzialmente resta un giocatore che potrebbe lasciare la Juventus c'è qualche club italiano che si è anche mosso sulle sue tracce al momento però lui resta concentrato solo ed esclusivamente sulla continassa e sulle vicende che riguardano i colori bianconeri c'è un giocatore che potrebbe salutare presto la Juventus che è Alexandro che non ha dato apertura alla risoluzione del contratto bensì ha dato apertura alla possibilità di firmare un contratto più ricco rispetto a quello che lo lega la Juventus nella prossima stagione dove andrebbe a guadagnare i 6 milioni e mezzo di euro ottenuti grazie all'opzione di riscatto automatico che è scattato qualche settimana fa Alexandro è nel mirino del mercato dell'Arabia Saudita la trattativa non è ancora in fase avanzata ma è una trattativa che può prendere forma da qui ai prossimi giorni a quel punto il brasiliano potrebbe lasciare un posto vacante in rosa un posto che la Juve vorrebbe andare a ricoprire con un centrale difensivo mancino e qui le ultime tracce del mercato bianconero ci portano su Hermoso, giocatore dell'Atletico Madrid che ha un solo anno di contratto e che potrebbe essere l'uomo giusto per rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri a disposizione di Massimiliano a disposizione di Massimiliano a disposizione di Massimiliano a disposizione di Massimiliano a disposizione di Massimiliano